Sono qui a presentare una relazione che ha per tema l'Abbazia Benedettina di Santo Eustacchio a Nervese della Battaglia. Il lavoro è fatto in collaborazione anche con l'Università Uav di Venezia. Ci siamo occupati del rilievo di questa abbazia che è stata distrutta nel corso della Battaglia del Piave e l'abbiamo ricostruita virtualmente utilizzando delle tecniche geometriche quali fondamentalmente la fotogrammetria digitale e anche la scansione laser. Da queste tecniche opportunamente integrate è stato possibile ottenere una nuvola di punti tridimensionali. Questo è il classico risultato che oggi giorno si può ottenere con queste tecnologie particolarmente evolute. In questo lavoro è stato portato avanti una fase di elaborazione che ha permesso di realizzare le classiche produzioni per il restauro architettonico. Da questo numero di punti sono state ottenute prima delle ortofoto, poi delle piante, tre piante a livelli diversi di quest'area che è anche particolarmente complessa dal punto di vista morfologico, i quattro prospetti e anche tre sezioni. Insomma tutta questa informazione geometrica ha permesso di ricostruire comunque poi la tridimensionalità dei resti dell'Abbazia. A partire da informazioni storiche è stata fatta anche una ricostruzione virtuale dell'Abbazia come era prima della Prima Guerra Mondiale e anche di proporre un progetto di restauro, un restauro virtuale che non ricostruisce nulla ma attraverso delle strutture metalliche va a ricomporre la forma dell'Abbazia come era prima della sua distruzione appunto durante la Guerra Mondiale. Grazie a tutti! Grazie a tutti!